Giovedì 18 maggio 2023, 2359 ultimo aggiornamento 19 maggio, 0014 dal nostro corrispondente Leverkusen dopo Tirana, Budapest. 370 anni dopo aver eliminato l'Estar nella semifinale della Conference League, Mourinho's Roma concede un bis contro Bayer Leverkusen, questa volta in Europa League sarà definitivo contro Sevilla e punto a triumph of tactics, sofferenza, sacrificio e cuore. Bayer Leverkusen Roma, Matic Intellectual of the Ball, leader Mancini, leader Mourinho un grande e immenso cuore che ha permesso ai giallorossi di resistere all'inevitabile assalto dei tedeschi, ma riducendo la partita alla difesa di Fortino non avrebbe fatto merito a una squadra e a un allenatore che ancora una volta sapeva come invertire qualsiasi previsione punto è semplice, anche per i bookmaker, per dare alla Roma preferita Roma il 31 maggio contro L Andalusi. Ma percorso era tortuoso, difficile, lungo 14 partite, due in più quanto si pensasse all'inizio punto poi vero Sociaded, Feyernord, fino a ieri sera quando cuoio capelluto ha toccato i tedeschi Xabi Alonso punto fina per dire meno meritato, secondo in due anni che porta la firma un gentiluomo setubale che ha cambiato la recente storia a una club non abituato alla vittoria. Troppo corta il Levarcusen inizia con il piede sull'acceleratore che preme in alto. La linea difensiva guidata da TH si accorcia anche sulla squadra mediana punto Xabi Alonso è così raccolta in 25 metri e costringe Roma a cercare lanci lunghi punto in uno di questi Abramo vince il duello dell'aereo con Tapsova, la palla Pellegrini che viene un po' da lato. È lì, guidato da Matic che radducchia su Wirz e Demir Bey, i piedi e la qualità al servizio dei tedeschi. È precisamente la posizione della squadra nazionale tedesca che infastidisce il giallorossi perché Asmund spesso si ritira in stile Dzeko in cerca della banca per lo stesso numero 27 o l'asse destro composto dai Freemong e Diaby molto veloci punto e stringere costantemente, stile fisarmonica, spendendo molte energie e prima poi arriva l'errore. Lo vuole con una lettura sbagliata di Ibanez, Diaby si allarga troppo a 12 e da una posizione impossibile ha colpito la Bartra punto è giocato. Di si alzano dalla panchina. La pressione del badante è comunque costante Demir Bey coinvolge Rui Patricio Langolo e poi in una sfilata a terra. Il problema di Roma è soprattutto nella circolazione della palla. Eccesso per matici errori si ripetono Belotti non tiene una palla che è una, Ibanez chiamati alla costruzione sono molto sbagliati, i pellegrini e i bove vengono assorbiti dai rispettivi compiti mediani e per fare questioni che non erano sufficienti dopo 32 minuti, anche Spinazzola è ferito all'interno di Zaleschi. Gini, il bilanciatore mu capisce che questo non può essere continuato a lungo, è il turno di Viginaldo un punto pellegrini si alza vicino a Tammy. Ose ci ha visto in un'altra volta. I cambiamenti di razza, ora i giallorossi danno l'impressione di controllare più facilmente. Anche perché l'olandese dà l'equilibrio che era M. Anche perché l'omma è un' timore. Adesso. I diyerei. Grazie a tutti.